Aumentano anche nelle Pescarese le persone che decidono di vaccinarsi. Gli hub della provincia hanno visto infatti negli ultimi giorni crescere sensibilmente il numero di pazienti. Ieri sono state somministrate nelle Pescarese 3.996 dosi di vaccino. Ritorniamo ai periodi di giugno-luglio quando facevamo veramente tantissimi vaccini. Ieri ne abbiamo fatti 4.000 in tutta la provincia, 3.996 per essere precisi. E oggi arriveremo quasi alla soglia delle 100.000 terze dosi nella provincia di Pescara. Questo è un buon segnale, molti stanno capendo, anche se forse è un po' in ritardo, che insomma vaccinarsi è importantissimo. Vaccinare è importantissimo perché laddove ci si infetta da questo virus la sintomatologia rimane lieve. E questo è il maggior successo di questo vaccino. Non ho la sfera di cristallo. Purtroppo questa variante Omicron è più infettiva e quindi i numeri stanno aumentando. Però ecco, la risposta che abbiamo è che tantissime persone rimangono infettate ma non hanno una sintomatologia lievissima. E questo è importante perché i nostri ospedali possono continuare a svolgere la loro attività senza chiudere o aumentare la disponibilità dei letti. Intanto la locale ASL e l'amministrazione comunale di Pescara continuano a lavorare senza sosta per individuare dei locali per aprire un nuovo hub vaccinale in vista del 2022. Continuiamo a cercare, speriamo insomma dopo le vacanze di Natale di avere un ulteriore hub per poter continuare e migliorare e fare più vaccini nel Comune di Pescara, ma non solo per il Comune di Pescara ma per tutta la provincia di Pescara.